pace fratelli e sorelle pace del signore a tutti quanti voi sia benedetto in nome del signore per questo nuovo giorno che lui ci dà oggi è giovedì 24 settembre sono le sette ancora una volta ci ritroviamo per meditare la parola di dio siamo grati al signore per questo nuovo giorno noi sappiamo che la vita è un suo dono sappiamo che per ogni dono che viene dal signore dobbiamo avere sempre un cuore grato nel giorno della gioia certo ma anche quando viene il giorno del dolore nel giorno della salute ma anche quando viene il giorno della malattia perché in tutte queste circostanze quelle felici e quelle meno felici il signore è con noi e questo ci basta apocalisse quindi capitolo 3 versi da 14 fino a 22 sono riportate le i consigli che il signore dà alla chiesa di la odicea l'ultima di queste sette chiese dell'asia minore cui sono indirizzate le epistole che stiamo meritando una chiesa alla quale il signore si presenta come l'amen il testimone fedele veritiero il principio della creazione di dio ancora una volta c'è la dichiarazione io conosco le tue opere parla qualcuno che conosce questa chiesa non per sentito dire ma perché lui personalmente conosce la realtà di questa chiesa e purtroppo la valutazione che viene fatta di questa chiesa non è delle migliori è una chiesa che non è fredda certo ma non è neanche fervente è una chiesa tiepida una chiesa superficiale una chiesa mediocre una chiesa che non dà la giusta importanza alle cose di dio una chiesa che zoppica dai due lati per usare un'espressione dell'antico testamento una chiesa che conosce la verità ma che non si conforma pienamente alla verità una chiesa che vive un vangelo al 50 per cento la valutazione di dio è questa e la conseguenza che si prospetta è drammatica se tu continui così chiesa di la odicea io ti vomiterò dalla mia bocca è importante ancora oggi scegliere la via della piena e totale consacrezione al signore la via del fervore dello zelo e non della tiepidezza la via dell'amore verso il signore e non vie secondarie che sembrano di per se stesso gradevoli ma che ci portano piano piano lontano dalla presenza di dio è una chiesa che non solo era tiepida ma era una chiesa anche che ingiustamente si vantava di essere qualcosa quando in realtà non era nulla tu dici è quello che la chiesa pensava di se stessa sono ricco sono arricchito non ho bisogno di nulla e il signore invece richiara tu non sai invece che sei infelice miserabile povera cieca nuda delle volte le valutazioni che dio fa sono diametrali alle nostre sono l'opposto ed è importante il giudizio di dio non il nostro giudizio è importante quello che dio dice non quello che noi diciamo questa chiesa pensava di essere chissà che ma nella realtà era poca cosa anzi era proprio una chiesa misera forse aveva ricchezze materiali ma non aveva le ricchezze importanti quelle spirituali forse era una chiesa potente perché magari capace di mescolarsi con la politica di allora ed avere dei privilegi ma non avere ma non era una chiesa che conosceva la potenza di dio forse era una chiesa che poteva dichiarare abbiamo argento e oro ma era una chiesa che non poteva più dire nel nome di gesù alzati e cammina ancora oggi è necessario che la chiesa del signore sia una chiesa che è ricca della presenza della benedizione di dio e della potenza dello spirito santo se l'argento e l'oro arrivano e ci consentono di poter così svolgere delle attività di tipo missionario e nei diversi settori della società per aiutare i poveri e i bisognosi ben vengono ma quello che la chiesa di bisogno è innanzitutto prima di tutto sopra di tutto la potenza dello spirito santo di dio e quando c'è la benedizione di dio allora c'è tutto quanto il resto ma se non c'è la benedizione di dio noi possiamo avere tutto ma è come se non avessimo nulla e allora cosa dice il signore a questa chiesa la chiesa di laodicea che si credeva a posto dice chiaramente tu non sei a posto anzi io ti consiglio di venire di comprare comprare naturalmente senza denaro come scritto in isaia capitolo 55 comprare per i meriti di gesù cristo che ha comprato lui ha acquistato lui ogni cosa lì sulla croce comprare dell'oro per essere purificati scusate per comprare dell'oro purificato e dal fuoco in modo da poter arricchire per comprare delle vesti bianche affinché non apparisse la vergogna e la nudità di quella chiesa per comprare del collidio affinché potesse vedere sì ancora oggi abbiamo bisogno di essere rivestiti della grazia di dio perché altrimenti se si vede quello che noi siamo per natura siamo perduti nessuno potrà scampare e soprattutto il mondo non potrà essere non potrà ricevere una buona testimonianza fratelli sorelle dimoriamo nel signore dimoriamo in cristo lasciamoci al volgere dalla sua giustizia non ostentiamo le nostre giustizie sono un panno sporco ancora oggi e fratelli sorelle ungiamo gli occhi nostri con il collidio di dio per avere una giusta visione di quella che la l'opera di dio di quella che il ruolo della chiesa nel mondo secondo il piano di dio di quello che il ruolo che ognuno di noi deve svolgere nella società in cui vive non alla luce della delle prospettive umane ma alla luce della prospettiva divina sì noi vogliamo essere al centro della volontà del signore signore ungi i nostri occhi affinché vediamo affinché possiamo vedere il bisogno spirituale che c'è intorno a noi affinché possiamo vedere il bisogno delle persone che vivono veramente nella povertà di chi non ha un tetto di chi non ha di che mangiare di che vestire signore ungi i nostri occhi per vedere per vedere che c'è una messe grande dove ci sono pochi operai e noi forse possiamo e magari dobbiamo andare a lavorare in quella messe era una chiesa che purtroppo aveva perso questa visione spirituale e proprio per questo aveva bisogno di tutte quelle cose aveva bisogno di ravvedersi e di tornare ad essere zerante e doveva accettare la riprensione e richiamo del signore perché quella era motivata dall'amore di dio che desiderava che anche la chiesa di laodicea tornasse al suo primo amore tornasse alla vera fede per poter essere salvata per poter vincere la battaglia spirituale sedersi un giorno sul trono e regnare col signore per l'eternità fratelli sorelle riguardiamo la nostra vita se siamo tiepidi beh che invochiamo il fuoco della pentecosta affinché ci riscaldi abbiamo bisogno ancora oggi di vivere una vita molto più spirituale abbiamo bisogno di vivere una vita che sia più devota al signore abbiamo bisogno della potenza dello spirito santo vogliamo chiedere signore soffia soffia col fuoco dello spirito tuo col vento santo tuo soffia signore affinché la nostra vita le nostre comunità siano delle comunità benedetti che il signore in questo giorno ci possa aiutare ci possa sostenere ci possa accompagnare benedire non solo oggi ma tutti i giorni della nostra vita la pace del signore sia con tutti quanti voi dio vi benedica grazie a tutti